21esimo Hannu Maninen, mentre Ackermann dobbiamo andare molto nelle retrovie al 28esimo posto per ritrovarlo ma quello che è preoccupante sono sempre poi alla fin fine i distacchi per la partenza nella gara sprint un Ackermann che partirà con un minuto e 34 di ritardo mentre Hannu Maninen invece partirà con un minuto e 20 di distacco Allora, il grosso problema è legato a quanto hanno speso gli atleti forti nel fondo nella gara di ieri io non credo che tutti abbiano recuperato dallo sforzo conseguentemente, sì, Asenetis potrebbe recuperare anche un minuto e 27 come Manninen ancora meno il discorso è capire che cosa hanno speso ieri C'è anche da dire una cosa Max, che giustamente in tutto questo giro di parole e di situazioni è una gara comunque dimezzata perché è chiaro che è giusto il discorso che hai fatto te, quanto hanno speso però su 15 chilometri qui invece ne hanno 7 e mezzo da fare dove oltretutto devi dare subito tutto perché sono la metà dei chilometri quindi è una gestione della gara diversa rispetto a quella che poteva essere originariamente Questo sì, però se non sei riuscito a recuperare dallo sforzo di ieri diventa complicato in ogni caso ottenere un buon risultato e poter essere competitivo magari anche per puntare al podio, non lo so La conseguenza a rigor di logica, ragionando normalmente, non dovrebbe essere considerata quindi c'è questa decisione, intanto siamo sulla primo partente, Peter Thand Sì, è una questione di opinioni, bisogna capire che tipo di regolarità possa avere il tipo di salto che poi è stato annullato Intanto Thand è partito in prima posizione Poi Rian, adesso Laert, Biller subito dietro, poi David Kreiner, l'impetorale giallo di Jason Lamy Ieri Thand, bene ma non benissimo, nel fondo ha perso tante posizioni Quei volante hanno perso ancora di più, su Espen Rian non apro neanche la parentesi Però Maxime Laert, che parte con il numero 4, ieri ha concluso in sesta posizione e ha tenuto bene Forse potrebbe diventare uno dei favoriti Christoph Biller sarà il quinto a partire, su una distanza così breve può dire la sua però ricordiamo che Christoph Biller non ha mai vinto in Coppa del Mondo Il distacco è comunque colmabile da quelli che partono dietro, ribadisco, dipende da quanto hanno speso ieri Se i fondisti forti hanno recuperato, allora l'ago della bilancia pende dalla loro parte In caso contrario, direi che potrebbe arrivare al traguardo in prima posizione qualcuno degli specialisti del salto Ecco, per quanto riguarda invece i specialisti di fondo, Sebastian Asenai In questo caso oggi parte con 1 minuto e 27 perché non è andato oltre la 26esima posizione E Maninen, anche lui parte con 1 minuto e 20 di ritardo Su Maninen, sul fatto che possa recuperare, sono 7 chilometri e mezzo, però un minuto Insomma, arrivare in zona, nelle zone alte ci arriva sicuramente tranquillamente Per quanto riguarda Asenai, bisogna vedere come sono le sue condizioni Fermo restando che nelle prime gare, insomma ha fatto vedere, nella prima gara, proprio nella primissima uscita Aveva fatto vedere di essere in grado di essere partito molto bene Soprattutto il discorso valeva per il salto perché era il suo tallone di Achille E che tallone di Achille, ma il problema di Asenai oggi è quello di partire con distacco rispetto a Maninen Se riesce a recuperare in breve tempo e poi riesce a darsi i cambi regolari con il finlandese I due rientrano sicuramente rispetto a quelli che sono davanti ora Sono 7 secondi, poi non sono neanche tantissimi fra Maninen e lui Intanto andiamo sulla testa della corsa con Kekkonen che transita agli 800 metri Sempre in settima posizione, Gruber Sì, questo Kekkonen, il nome nuovo all'interno della squadra finlandese, mi sembra un ottimo saltatore Però difetta un pochino per quanto riguarda la componente sci di fondo Qui siamo invece sul leader di Coppa del Mondo in coabitazione con Magnus Mohan e Chauzon Lamis Chapuis Ecco qui Mohan subito dietro francese E Mohan oggi può davvero andare a conquistare la leadership solitaria in vetta la classifica Perché sulla carta è più forte di Lamis Chapuis nel fondo e nel salto si è difeso bene Rimanendo dietro francese di Pop Facendo un passo indietro, ieri bisogna dire che sia stato uno degli arrivi più divertenti degli ultimi anni Se vogliamo, anche perché arrivare praticamente sulla linea, quasi assieme sulla linea Insomma con una bella volata meritava Senz'altro, intanto mi pare che Sebastian Asenei sia già alle calcagne di Hannu Manninen Mentre più indietro Ronnie Ackerman che oggi potrebbe avere più forze a disposizione rispetto agli altri Visto che ieri è stato eliminato dopo la prima serie di salto e quindi si è potuto riposare Intanto qua siamo sulla testa con Peter Tande abbastanza vicini sempre almeno per il momento Sia Coevoranta, sia Espen, Rian poi David Kreiner Sì, David Kreiner è uno di quelli che poteva provare a tenere il passo Anche se lui ha grossi alti e bassi nella componente fondo Qui invece con il 7 Kekkonen Rimaniamo su Kekkonen che credo non possa mantenere un passo sostenuto Attenzione che Tande è stato raggiunto da Coevoranta e anche Espen Rian Tradotto significa che Tande oggi è in grandissima difficoltà Vediamo il secondo trenino invece con proprio David Kreiner Poi Laerte, Maxime Laerte, Christoph Abilar Quattro minuti, siamo due chilometri e mezzo Dietro sullo sfondo arriva anche Kekkonen Ville Kekkonen Adesso poi per quello che dicevi tu andremo subito anche a rivedere gli altri distacchi Gente che sugli scistretti potrebbe andare C'è anche Kirchkaizen da tenere un attimo, da cercare di capire cosa può fare Sì, Kirchkaizen ieri ha concluso in quinta posizione andando in acido lattico nel finale Non è ancora Kirchkaizen dell'anno scorso? No, anche per lui vale il discorso fatto in precedenza per Manni, Nasenei e Mohan Se ha recuperato al meglio da quello sforzo è competitivo anche per il podio In caso contrario un piazzamento nei 10 potrebbe essere l'obiettivo di giornata Andiamo a vedere i due chilometri e mezzo Sempre Peter Tange come ha detto te Max Sta forse accusando un po' il colpo Ma questo è un ritmo che non li porta da nessuna parte Quindi o qualcuno perde l'iniziativa Direi che forse 80 o 90 perché non credo che Rihanna abbia mezzi per fare la differenza nel fondo O in caso contrario vengono raggiunti dagli atleti più forti Secondo me come hai detto te il pericolo arriva da dietro C'è il rischio che arrivi veramente da dietro Anche se comunque direi che non hanno recuperato poi tantissimo gli specialisti del fondo in questi primi due chilometri e mezzo È il discorso delle tossine dell'acido lattico che abbiamo detto prima Ieri 15 chilometri si sono sentiti e sono stati piuttosto pesanti Per certi diversi buon per loro che oggi sono sui 7 chilometri e mezzo Perché se erano 15 chilometri forse alcune cose potevano cambiare Intanto qua i due leader di coppa Magnus Mohan e Jason Lamishapui Che sono lanciati all'inseguimento del trenino che li precede Dietro Maninen ha un distacco in questo momento di 58 e 7 Partiva con 1 e 20 quindi qualcosa ha recuperato Ricordiamo siamo a 2 chilometri e mezzo Asenai anche lui ha un minuto Si sta avvicinando Dovrebbe essere fatto bene i conti a un paio di secondi da Hanumaninen Sì anche Akerman sta recuperando bene Diciamo che gli specialisti del fondo sono tutti insieme Però non hanno recuperato poi tantissimo in questo primo giro Se la media di secondi recuperati rimane questa Non vanno a prendere quelli che sono davanti Salvo a repentinici e dimenti Il problema è che vedremo io credo da metà gara in poi Siamo dai 4 chilometri a occhio e croce Potremmo avere un'idea un po' più chiara di quali sono le forze Che gli atleti hanno in questo momento nelle gambe Mettici anche che oggi obiettivamente Max è stata una mattinata estenuante Snervante Chiamala cerebralmente Credo che gli abbia consumato Non dico ha prosciugato il cervello Ma gli ha consumato parecchio Perché è una gara interrotta tre volte Poi alla fine ripari Insomma tante cose Che penso che ne abbia risentito 3 e 3 Per questa combinata nordica Il comando è passato anzi coegurante Peter Tandello tallona Espen Ria che tiene ancora un secondo e mezzo Poi l'altro trenino Guidato da David Kreiner Lo vediamo Si che si sta subarcando tutto il lavoro La Hertha molto furbescamente rimane coperta Così come Christoph Bieler Proprio dei tre Quello più forte sugli sci Penso che sia la Hertha Quindi attenzione Perché i due osterici lo stanno portando in carrozza Ma attenzione a Mohan che è in chiara rimonta 29 secondi dalla testa Insieme a Geson Amishapuila Poi Kekkonen e Miki Gruber A 32 secondi Questi sono gli atleti Nei primi 30 secondi Maninen a 46 Kirchkaizen a 47 Asenet Bel trenino in questo caso A 48 Non è male No Non è male Assolutamente Nella serie qualcuno che tira il gruppo C'è sempre Qui però sono tre specialisti Degli scistretti Ackerman Quindicesimo Dietro Eulig Menz Rünen Atekayama Tutti abbastanza Staccati E intanto Ritorniamo con Anzi Quevuranta E' sempre E' chiaro che devono recuperare tanto Mentre mi pare che ci sia il ricongiungimento tra i primi due trenini Quindi i due esteriaci più la Hertz sono andati a riprendere Tande e Spenriane e Coivuranta Bisogna vedere cosa hanno speso questi atleti nella prima parte di gara E qua abbiamo i due pettorali gialli e altro mini trenino Stanno facendo corsa a sé Si sono praticamente staccati Adesso ovviamente stanno andando all'inseguimento dei primi sei due trenini che abbiamo detto Si sono riuniti sei atleti ormai compattati Anche qua a Coivuranta Quanto terrai fino a quando terrà perché io oserei dire fino a quando Ma adesso mi pare più pimpante Ha capito che con il ritmo di Tande non si poteva andare lontano E si è messo a tirare Mentre Tande mi pare subito un po' in difficoltà Non so, non sapevi Luca Nessuno di questi è fondista Sono tutti atleti che accellano nel salto ma fanno fatica nel fondo E quindi torniamo sempre al punto di partenza Sono i fondisti che devono dimostrare Di riuscire a andarli a prendere Chapuis è uno che è migliorato, l'abbiamo visto Nel salto si era già visto Nel fondo, l'abbiamo già detto Ha fatto dei passi in avanti E li sta facendo tuttora Magnus Mohan non è un'atleta che si scopre oggi Un'atleta che conosciamo piuttosto bene E sono gli altri tre sui quali nel contesto di oggi vorrei vedere come si comportano Quelli che abbiamo detto prima Cioè Asenei, Kim Kaisen e Manninen Sì, allora Tanta carta sul fuoco Senz'altro bisogna dire che La miscia qui, nella componente fondo È cresciuta in maniera esponenziale E francamente non ci aspettavamo questi miglioramenti Che ha evidenzato soprattutto nella gara di ieri Chiaramente non può stare con Mohan Perché Mohan è di un altro livello Però con Mohan può recuperare posizioni I due devono prendere 20 secondi in un giro Ai sei atleti che sono davanti Che però si stanno difendendo bene E tra l'altro Da dietro non è che recuperino tantissimi fondisti Ecco qui Manninen che si trascina dietro tutti gli altri Siamo a 5 km Quindi siamo già a tre quarti di gara Mancano due chilometri e mezzo alla conclusione Con questo passo non credo che li vanno a riprendere La vedo dura È chiaro che nell'ultimo giro cambia tutto Perché ci possono essere cedimenti da parte di chi è davanti O magari chi è dietro Da tutto quello che rimane Però a questo punto la vedo abbastanza complicata Huckerman intanto i 5 km transita con un minuto di ritardo Quindi anche lui è piuttosto in netta difficoltà Poi Keitainen, Clemensen, Brunen, Atekayama Ma qui siamo già abbondantemente lontane Da un'ipotesi Molto indietro anche Johnny Spillen Addirittura lo troviamo a 29esima posizione C'è poco da fare 13 minuti di gara Sempre con il tremino di Anzi Quiburanta Peter Tande Si è riunito a Christophe Biller e David Kreiner Dunque adesso sono praticamente 6 corridori 6 atleti che stanno facendo l'andatura Si, c'è un dato molto interessante Gli atleti davanti l'unico che finora ha vinto una prova di Coppa del Mondo E' stato Peter Tande Biller ci è andato vicino innumerevoli volte Ma non è mai riuscito a conquistare il successo Tante volte sul podio ma mai una vittoria Per gli altri invece meno soddisfazioni Qualche podio per Coiburanta Addirittura la Hertie il podio non l'ha mai visto Quindi non so se sia facile per loro Però vedo Mohan che ormai ha nel Mierino i 6 davanti E si trascina dietro anche Chison Lamy-Shapui Tanto ti comunico è cambiato in testa Cioè è Biller che è passato a far l'andatura in questo momento Mohan-Shapui sempre insieme Ecco Tande non è più nel gruppo di testa Quindi i 5 davanti non hanno mai vinto in Coppa del Mondo Tande è in grandissima caro easy E perderà tantissime posizioni a questo punto E non so come posso andare a finire questa gara Kierkeisenmann in Asenai stanno recuperando molto L'avevamo visto era già in difficoltà come ha detto tu Max Quando è partito Non era pimpante E carico a Mila Asenai A 24 secondi Gruber a 36 Facciamo due conti Sono 5,8 km Qui siamo su Ronny Ackerman Anche lui in Chiararimonta In compagnia di Bill Demong Atleta statunitense specialista del fondo A questo punto è più interessante andare Sulla testa della gara Per capire come evolve la situazione Anche perché abbiamo visto Sta continuando Comunque a cambiare Tutto c'è anche Chiamiamo foschia Nebbiolina Nuvole bassi come preferite Però non c'è una grandissima visibilità Vediamo transitare Chiappui Magnus Mone L'ami Chiappui Ho l'impressione che anche oggi si possa assistere a una volata Anche se davanti qualcosa si muove Si è un po' allungato Se non vado errato Hanno guadagnato qualcosa Christoph Bieler Ed anzico il Vuranta Che ci stanno provando E la Hearth si è lanciata nel seguimento dei due atleti Vediamo Eccoli qua I due leader di Coppa Ormai sono quasi ricongiunti Io credo che si allungherà ulteriormente Il trenino dei sei lì davanti Perché abbiamo già visto Si sta un po' Sgretolando Oltretutto ovviamente I due leader di Coppa Stanno spingendo al massimo Qui siamo su Bieler E anzi Coivuranta Hanno allungato Hanno decisamente allungato poi La Hearth David Kreiner E Moan e l'ami Chiappui Hanno l'intralcio di questi atleti Che in questo momento non possono superare Ma che li rallentano in oltre modo Coivuranta in odore di podio oggi Coivuranta Direi in odore di podio Decisamente Anche perché se ti ricordi Nella bunders iniziale della stagione Aveva avuto proprio un cedimento A un certo punto Era stato risocchiato Pur avendo saltato In maniera Avendo fatto un discreto salto Si esatto Qui però il vantaggio che hanno preso Bieler e Coivuranta Potrebbe essere decisivo Perché manca pochissimo al termine della prova Meno di un chilometro Intanto hai visto Magnus Moan E il Jason Amish Chiappui Erano Sul Fiato Sul collo Se ho visto bene Era la Hearth E siamo all'ultima curva Con Bieler che si avvantaggia Nei confronti di Coivuranta E se ne va Se ne sta andando Christopher Bieler Christopher Bieler Che va a vincere Coivuranta Comunque Secondo E per il terzo posto Vediamo cosa succede La Hearth Moan La Mish Chiappui Quindi prima vittoria in carriera Per Christophe Bieler Hansi Coivuranta Eguaglia il suo miglior risultato Con un secondo posto Miglior risultato in carriera Per Maxime La Hearth Che sale sul podio Per la prima volta E Magnus Moan Battendo la Mish Chiappui In volata Conquista la vetta Della classifica generale Di Coppa del Mondo Ottavo Asenei Maninen Chiude al Nono posto Dietro a Sebastian Asenei C'è stato proprio Il Stato scavalcato Sì Kirchaisen Decimo Ha perso terreno Nel finale Mentre Tande Oggi imbarazzante Undicesimo Ma Aveva un'occasione Importante Per conquistare Un'altra vittoria In Coppa del Mondo La terza E L'ha completamente Gettata al vento Quello che si sta confermando A mio modo di vedere E' ancora A Jason La Mish Chiappui Odio però E' riuscito a A restare lì C'è arrivato Molto vicino Comunque Perché andiamo a vedere E' Vicino Comunque Per la classifica Di Coppa del Mondo Non ci sono Non ci sono problemi Guadagna 10 punti Moan Confermati di Jason La Mish Chiappui Ma i due sono Molto vicini Combinata Nordica Che adesso si prenderà Una settimana di pausa E poi Gli atleti che reggeranno In Austria A Sefeld Esattamente Intanto Quindicesimo A Kerman Vediamo la classifica Così come Ce la propone La grafica Poi è Gottwald Dietro Un minuto E dieci Il suo Ritardo Hettig Campione olimpico Crisi Heder Schillinger Qui siamo già Oltre I due minuti Di ritardo E' Cosa abbastanza Strana Non vedere Maninen Sul podio Sì Cosa abbastanza Strana Ma ho l'impressione Che il vento Si è cambiato E al Cosa abbastanza